Ci troviamo a Montichiari, oggi è giovedì 6 marzo 2009, da poco è stata presentata una splendida mostra da parte di un gruppo di artisti bresciani, interpreti del territorio. Ci troviamo nella sede del Proloco in via Trieste a Montichiari, dopo avrò modo comunque di farvi vedere alcune di queste opere, di questi 27 artisti, ma adesso abbiamo qui la signora Alessia Biasiolo che è un po' la segretaria, cos'è che possiamo dire di questo? Sono la curatrice sia dell'antologia con Renato Hagman che della mostra che è originata questa antologia, ormai è una tradizione, anche la stampa l'ha definita così, per il quarto anno abbiamo realizzato un volume che è il nostro regalo di Natale, per cui abbiamo un spauracchio di fine anno quando non si sa che cosa regalare e non si vuole magari spendere tantissimo. È molto significativo che regaliamo una parte di noi e questa parte di noi alla fine è diventata anche la visualizzazione del nostro lavoro con una mostra. La prima è stata a proposito dell'antologia dell'anno scorso, Sinecia, l'antologia 2007 per essere precisa, e invece l'antologia del 2008, Interpreti del territorio, è la mostra che stiamo vedendo. I 27 artisti sono poeti, scrittori, scultori, pittori e la volontà è quella stavolta di fare vedere come sono nel loro ambiente, quindi li abbiamo fotografati nel loro studio, oppure al tavolo da biliardo, con il loro gatto, con il computer piuttosto che nel giardino di casa e abbiamo voluto far vedere come il territorio si anima di questi personaggi, spesso molto noti per i nomi più che per il loro volo. Sono tutti bresciani? Sì, sono bresciani e proprio contestualizzati dalla città alla provincia, quindi abbiamo Manervio, Rezzato, Buognago, abbiamo varie località, varie realtà, Berizzole, eccetera. Direi che alla fine la possibilità che ci danno le amministrazioni, come quella di Montichiari, che è stata molto solerta e molto gentile nel volerci ospitare in questa sede così bella, è in modo per fare conoscere questi artisti di faccia, però anche di interagire con il pubblico, quindi abbiamo questa testimonianza che diventa viva, vivace, perché il territorio è quello che ci ispira e stiamo ridando al territorio quello che poi ha significato le nostre stesse opere. Alla fine è una mostra molto colorata con vari tipi di arte, dal figurativo all'astratto all'iperrealista, con vari tipi di tecniche e personalità, quindi, che non sono né a confronto né selezionate per un unico genere, ma selezionate per le loro capacità, per la loro valenza nel territorio. Interessante, per esempio, la presenza di due architetti, uno che è anche scultore, l'altro invece che dipinge, ma e cui opere anche architettoniche diventano veramente un'opera d'arte nel territorio stesso. Ecco, Renato Ackman, anche lei è uno dei 27? Esattamente, io sono un poeta scrittore che siamo conosciuti con la dottoressa Alessia sempre in questi vari concorsi e allora dal fatto di questa idea di quattro anni fa di mettere insieme questi notti artisti, come dicevo, per il regalo di Natale, abbiamo messo le nostre opere a disposizione di questa piccola antologia e di mano in mano in questi anni si è sviluppata, come diceva la dottoressa del 2007, hanno chiesto anche di fare una piantologia, cioè una mostra sul libro di sinezia e quest'anno su questa antologia e suoi interpreti del territorio hanno voluto richiederci delle mostre che abbiamo fatto in modo di circuire tutta la provincia e abbiamo toccato diversi comuni come Brescia, come Flero, dal palazzo Calzaveglia, Avogadro, siamo stati qui a Montichiaro in questo momento, siamo stati all'antica birreria Bornata, naturalmente la presentazione è stata fatta alla mostra Santi Finitore Giangolo della circuncrizione anche perché la volontà è proprio portare queste mostre anche in luoghi non usuali per le mostre. Per cui è la mostra molto spesso, come dicevate prima, che va verso gli utenti, come nel caso, mi sembra di aver capito, nella casa per anziani di Brescia, Leonardo Arvedi, che andrete, che giorni? Si aprirà la mostra al giorno 18 alle ore 16 di marzo e resterà fino al 28, apertura anche a pubblico dalle 9 alle 19. Ecco, qui a Montichiari invece alla Proloco vi ricordo che questa mostra sarà aperta fino a domenica, il giorno 15 di marzo, ecco, per cui tutti i giorni, mi sembra di aver capito, c'è qualcuno che comunque... Sì, dalle 10 alle 12 sì e dalle 15 alle 18 a 30. Dalle 15 alle 18 a 30. Di giorni ragione. Bene, allora vi ringraziamo per essere venuti a Montichiari e vi auguriamo il successo che meritate. Grazie.